Dimentichiamo di Nicola, perché giovedì dobbiamo anche ripartire per fare bene, perché in Europa League vogliamo anche passare, poi abbiamo così tante partite, tante competizioni, secondo me è anche importante che per i giocatori che giocano meno siamo un gruppo che tutti possono aiutare, questo anno è la nostra forza.